L'artista esistenzialista, un pochettino complicato perché la mia mano destra e la sinistra è quella che fa il video Allora, un baciamano onice con dei gancetti onici ai lati, quindi una serie di catenelle, vedete? Colo ruggine, è complicatissimo perché lavorare con la sinistra sulla destra non è semplice L'artista esistenzialista, quindi diciamo il baciamani venusiano, l'artista esistenzialista è una strada a tutti